La decisione della Regione del Veneto di sospendere i contratti con le cooperative che fornivano i cosiddetti medici a gettone al sistema sanitario regionale e di sostituirle con dei contratti stipulati direttamente con i medici stessi per il medesimo servizio è nei fatti un grande imbroglio che Lanzarin e Zaia provano a mettere in campo per evitare di affrontare il vero nodo, il vero problema del sistema sanitario regionale e cioè la carenza di personale Un attacco diretto e durissimo a chi organizza la sanità del Veneto da parte del PD che parla chiaramente di soluzioni che eludono ancora una volta la necessità di assunzioni Secondo la consigliera Kamani infatti la delibera della Giunta Veneta riguardante le cooperative e le prestazioni dei cosiddetti medici a gettone non rimuove una criticità pesante Per il PD si tratta solo di un escamotage attuato vista l'impennata dei costi che il sistema di medici in cooperativa, si legge in una nota resa pubblica nelle scorse ore, sta avendo sui bilanci delle aziende sanitarie Ancora una volta, anziché procedere a nuove assunzioni investendo le risorse nel sistema sanitario pubblico la Lanzarin e Zaia decidono di finanziare l'intervento di soggetti esterni al sistema pubblico Il sistema delle cooperative, sostiene Kamani, celava una carenza di personale medico ormai endemica nel sistema sanitario regionale con conseguenze dirette e drammatiche per la salute dei cittadini Ecco cosa serve per il PD per ridurre le liste d'attesa e migliorare la situazione della sanità in Veneto Serve sbloccare le assunzioni, le graduatorie sono già pronte Serve incrementare, pagare di più i dirigenti del sistema sanitario pubblico a partire dalle prestazioni aggiuntive con le progressioni di carriera Serve costruire degli incentivi perché i medici del pubblico restino nel pubblico Ancora una volta, da Zaia Lanzarin, slogan ma nessuna risposta concreta Ancora una volta, da Zaia Lanzarin